Musica Paura questa mattina a Corso Garibaldi, cadono calcinacci dal cornicione dell'Istituto Colombo. Il crollo si è verificato intorno alle 5.30 e fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a cose. Sul posto sono prontamente intervenuti vigili urbani e vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il preside Lucia Cimmino, Paura questa mattina a scuola. Alle prime luci di questa mattina si è verificato un crollo di calcinacci. Esattamente come sono andati i fatti? È successo verso le prime ore della mattina. Noi abbiamo delle reti di protezione per quanto riguardano i cornicioni della sede dell'IPAM. In quanto la città metropolitana è stata già da me allertata per far sì che mettesse in sicurezza tutti i cornicioni della sede. Nonostante questa rete però si è verificato un crollo. Perché? Allora questa rete con il caldo si vede che alcuni sassi che si sono staccati d'intonaco hanno fatto cedere questa rete ed è andata a finire sulla pensilinea fortunatamente dell'istituto. Per cui non ci sono stati danni a persone e questa è la cosa più importante. Quindi quando si è verificato il crollo nell'istituto non c'era nessuno e stamattina le elezioni si sono svolte regolarmente sì o no? Allora le elezioni si sono svolte regolarmente perché i ragazzi sono entrati in quanto noi abbiamo altri ingressi e abbiamo fatto in modo che i ragazzi entrassero regolarmente. Poi per evitare che i genitori si potessero diciamo preoccupare noi abbiamo pensato di avvisare prima tutte le famiglie e poi abbiamo fatto uscire con qualcora di anticipo i nostri ragazzi. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'istituto e la città metropolitana domani mattina farà un prolungamento della pensilinea davanti alla scuola per mettere ancora di più in sicurezza la scuola. Si incomincerà di nuovo a fare lezione nei momenti in cui noi faremo questo prolungamento della pensilinea in modo tale che la città metropolitana dovrà avere i tempi tecnici per fare tutto questo e fare entrare di nuovi ragazzi. E' ovvio che noi i genitori attraverso il sito web avranno la notizia anche attraverso il registro elettronico come noi abbiamo avvisato tutti i genitori della situazione e quindi abbiamo ritenuto opportuno per sicurezza e fare uscire i ragazzi in anticipo. Così loro avranno notizie attraverso il sito web. Voglio rassicurare tutti perché la città metropolitana mi ha già comunicato che domani mattina che è una giornata di chiusura per il 2 giugno, la festività del 2 giugno, noi loro mi manderanno una ditta per iniziare il lavoro e quindi io penso che a breve riusciremo a mettere in sicurezza l'ingresso dei ragazzi e quindi avremo regolari attività. La dirigente scolastica Lucia Cimmino rassicura le famiglie ai microfoni di TV City. I studenti sono usciti con qualche ora di anticipo e domani è previsto l'intervento tecnico della città metropolitana per il prolungamento della pensilina e sono previsti interventi di ristrutturazione dell'edificio. Voglio rassicurare tutti perché voglio dire che già c'è una delibera e una determina della città metropolitana di 1.600.000 euro per la ristrutturazione di tutte le facciate dell'istituto professionale. Quindi noi stavamo aspettando questi lavori. Intanto arriva una buona notizia per il nautico. Riunioni infatti questa mattina in prefettura con il sindaco, la dirigente e i rappresentanti della città metropolitana per la nuova sede della scuola. Io stamattina come preside dell'istituto nautico sono stata convocata in prefettura per la nuova sede dell'istituto nautico e quindi purtroppo ho dovuto lasciare i miei collaboratori per andare a fare questa riunione. E quindi porteremo, spero, buone notizie in futuro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS